Noi siamo dentro, ormai ce lo ripetiamo da tempo, dentro una mutazione culturale molto forte. Faccio solo qualche piccolo riferimento. Ieri potevamo ben sentire ti amo per sempre, oggi si dice ti amo ora. E ieri, che so, si prospettava un futuro condiviso, e adesso si sottolinea la temporaneità. Allora, a questa mutazione culturale credo che non si possa rispondere semplicemente con i decreti. Bisogna riallacciare un rapporto con le nuove generazioni, che sono molto più sensibili di quanto uno possa pensare. L'importante è che noi siamo capaci di accompagnarle, di introdurli in un pensiero che muove la coscienza e che aiuta a determinarsi verso una scelta. Certo, accanto a questo aspetto c'è anche l'aspetto non solo culturale, ma anche sociale e economico, che spesso rallenta la decisione di sposarsi. L'altro motivo è che c'è anche un'educazione sul rapporto a due uomo-donna che non aiuta, diciamo così, a maturare una scelta sapienziale, quando è piuttosto una specie di uso della persona. Bene, sono tutti elementi che ci devono aiutare a riflettere, a meditare, attraverso linguaggi nuovi, passioni nuove. Io sono pieno di speranza perché vedo che i giovani attendono questa parola.